la playhead e lo skimmer hanno molte cose in comune e alcune differenze vediamo prima quello che hanno in comune entrambe servono per selezionare un punto preciso data in line e prima cosa visualizzarlo nel viewer seconda cosa applicare in quel punto delle operazioni poi vedremo di cosa si trappa la differenza invece è che la playhead è un riferimento fisso che io sposto soltanto con un click del puntatore lo skimmer invece è un riferimento mobile che segue sempre il puntatore e fa lo skim cioè permette di scorrere in preview la timeline alla velocità con la quale muoviamo il mouse come possiamo vedere ora a questo punto ci sono due situazioni possibili in cui avvengono cose diverse abbiamo risultati diversi primo caso sto lavorando in timeline il puntatore con lo skimmer è in timeline proprio come adesso nel viewer vedo appunto quello che è segnato dallo skimmer non quello che è segnato da playhead e lo skimmer ha la precedenza su tutto anche sulle operazioni che vado ad eseguire ad esempio sono qui con lo skimmer premo il tasto m e mi compare un marker dove avevo posizionato lo skimmer non dovevo posizionato la playhead oppure metto lo skimmer da quest'altra parte prima seleziono una breve porzione di clip nel browser premo q ed ecco qua mi si connette una clip dove avevo posizionato lo skimmer e la playhead lo segue di conseguenza ma in questo caso come nell'altro comanda lo skimmer altra situazione voglio ingrandire la timeline posiziono lo skimmer in questo punto e premo command più un'altra volta che cosa è successo che lo skimmer anche in questo caso comandava cioè era il punto in cui si è focalizzato l'ingrandimento della timeline la playhead era da tutt'altra parte e non è stata minimamente considerata in questa operazione il caso più classico devo mettere il video in play mi muovo con lo skimmer premo space e che cosa succede parte dal punto in cui avevo posizionato lo skimmer vediamo a quel punto quando io ho un'anteprima che sta andando in play o anche se la sto muovendo con i tasti della tastiera che cosa abbiamo abbiamo che lo skimmer e la playhead diventano una cosa sola una cosa unica prendiamo invece ora in esempio la seconda circostanza il secondo caso di cui volevo parlare sto lavorando in questo caso fuori dalla timeline quindi ora in timeline il mio riferimento è la playhead non è più lo skimmer lo skimmer non c'è più perché io con il puntatore sono fuori dalla timeline facciamo un po' di esempi in cui la playhead adesso diventa fondamentale prima cosa io ora sto vedendo nel viewer il frame segnato dalla playhead lo skimmer non c'è più vedo quello segnato dalla playhead se io ad esempio vado nel titolo editor faccio doppio clic su un titolo che cosa succede? il titolo viene connesso dove dove c'è la playhead altra cosa stessa situazione di prima devo connettere una clip l'avevo già selezionata nel browser invece di spingere il tasto da tastiera io spingo direttamente questo tasto di connessione in questo caso spingo il tasto quindi sono fuori dalla timeline quindi quindi la clip si connette dove dove c'è la playhead perché lo skimmer non c'è altro esempio voglio esportare un fermo immagine vado su share still frame per esportare un fermo immagine e che cosa mi esporta? mi esporta quello che sto vedendo nel viewer e cosa sto vedendo nel viewer? quello che è segnato dalla playhead quindi se voglio esportare un fermo immagine devo ricordarmi di posizionare la playhead nel posto giusto perché lo skimmer non c'è e comanda la playhead voglio altro esempio voglio mettere un keyframe seleziono una clip voglio mettere un keyframe in scale ovviamente io sono qui col mouse add e keyframe e se andiamo a vedere nelle video animation il keyframe è stato messo esattamente dove avevo la playhead lo skimmer è una funzione aggiuntiva rispetto alla playhead infatti nelle vecchie versioni di final cut lo skimmer non esisteva si poteva fare lo skimming ma non c'era questa cosa che seguiva sempre il puntatore se ci dà fastidio in qualche modo ci ingombra nel montaggio noi possiamo disattivarla con questo pulsante o con il tasto S della tastiera noi andiamo a disattivarla a questo punto vediamo io mi muovo col mouse nella timeline non faccio più skimming posso però farlo trascinando la playhead che a questo punto rimane il mio unico riferimento in timeline posso invece attivare e disattivare singolarmente in questo caso era disattivato soltanto il suono dello skimming quello può essere più fastidioso io infatti lo tenevo disattivato quando faccio lo skimming io contemporaneamente sento anche tutto l'audio alla velocità con la quale skimmo ed è per questo che spesso dà fastidio e infatti qui lo vado a rispegnere ho anche un'altra possibilità che si chiama clip skimming ora vi faccio vedere che cos'è io qui sono senza clip skimming in questo momento quindi muovo lo skimmer e lo skimmer mi appare come una barra unica che attraversa tutta la timeline diciamo disinteressandosi di quello che c'è sotto se io invece vado in view e attivo il clip skimming che cosa succede? che lo skimmer diventa sensibile alla traccia che sto andando alla clip che sto andando a skimmare diciamo quindi in questo caso facciamo un esempio attivo anche l'audio così farò lo skimming della musica che ho sotto infatti non vedo nessun video e se vado su faccio lo skimming di audio e video che ci sono sopra il clip skimming non ha una funzione soltanto per quanto riguarda la preview ma anche per quelle operazioni di cui io parlavo prima ad esempio se io devo mettere un marker è importante se io lo metto sulla clip sopra o sulla clip sotto perché mi cambiano le cose bene io premendo M in questo caso ero di sotto lo metto di sopra lo voglio mettere di sopra posso farlo perché lo skimmer in questo caso è selettivo facciamo un altro esempio allora io voglio inserire in questo caso un frizz frame e fa differenza anche in questo caso se io lo inserisco nella timeline principale oppure in questa timeline secondaria di sopra ecco io se faccio alt F anche in questo caso il clip skimming questo strumento selettivo mi aiuta perché posso decidere di inserirlo di sopra o di sotto lo skimmer e la playhead sono due strumenti che finora abbiamo visto soltanto in timeline ma in realtà sono presenti anche nel browser nel browser è molto più importante lo skimmer in realtà serve sostanzialmente per vedere soltanto le clip in anteprima la playhead è un punto di riferimento non fisso ma volatile cioè io ad esempio faccio clic in questo punto con lo skimmer vediamo che questa linea bianca di riferimento è la playhead ma qualora io cambi clip e poi torni in quella precedente non ho più il riferimento di prima ogni volta che faccio un clic inserisco nuovamente la playhead ma la playhead non mi rimane come riferimento fisso nel video con lo smittato di prima non mi rimane 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 ma la playhead non mi rimane